Migliorano le condizioni di Elena Rocchetti, la donna di 59 anni ferita da un colpo di pistola sparato accidentalmente dal marito sabato scorso nella loro abitazione in via Miraglio Cappellini a Marotta. La signora ha subito un delicato intervento chirurgico in cui i medici dell'ospedale regionale Torretti di Ancona hanno dovuto asportare la milza. Resta quindi ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Le lesioni provocate dal proiettile infatti per fortuna non hanno pregiudicato il funzionamento degli organi vitali. Ancora sotto shock invece è il marito Sauro Battisti, 64enne, titolare del camping a piano di Ponte Sasso che poco dopo mezzogiorno stava pulendo la sua beretta regolarmente detenuta per portarla al piano superiore. Visti i numerosi fatti di cronaca riportati dai media dalla stampa pensava che tener pronte le armi potesse essere una garanzia in più contro possibili incursioni dei malviventi, una decisione che avrebbe potuto trasformare un sabato mattina in una tragedia. Battisti ha premuto il grilletto dell'arma colpendo sua moglie alla quale stava mostrando come si utilizzava la pistola. Sono seguiti attimi di panico durante i quali l'uomo l'ha adagiata sul divano e ha chiamato il 118 che è arrivato poco dopo insieme all'elimbulanza ad Ancona. La donna che è sempre rimasta cosciente ha potuto spiegare personalmente quanto accaduto ai carabinieri. La dinamica è stata ricostruita dai militari della compagnia di Fano sotto il comando di Alfonso Falcucci che oggi ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza. Non ci si inventa difensori fai da te ha detto perché proprio questi potrebbero essere gli effetti collaterali con il timore e la preoccupazione di volersi difendere dai ladri e dai malfattori. C'è il rischio involontario di fare del male a qualcuno soprattutto se chi come Battisti non è un esperto di armi e ha poca dimestichezza. Ora il 64enne è indagato per lesioni colpose.